Bullock è il bullone a strappo di prestazioni eccezionali per un perfetto controllo del serraggio. Il Bullock è composto da due parti, collare e perno, ed è di facile e veloce installazione per una estesa gamma di applicazioni nel campo dell'ingegneria civile perché al momento dell'installazione effettua un bloccaggio di elevatissima forza resistente a forti sollecitazioni come variazioni di temperatura e vibrazioni. Per l'applicazione di questo prodotto consigliamo la nostra rivettatrice a batteria Iero 7.0. Visitate il nostro sito Remacest Factory, la tecnologia del visaggio.